Potente a parlare ragazzi, qua Axel, oggi sono a sole e sono qui a presentarvi su un nuovo video Che ragazzi sarà un nuovo video abbastanza particolare perché oggi sono qui a presentarvi un nuovo squad builder Costituito da giocatori che mi avete richiesto voi e in più anche un giocatore straspecialerrimo dei nuovi trasferimenti Questo giocatore qual è ragazzi? È Salah del Chelsea Vabbè poi c'è anche Trav del Milan però appunto è famoso Salah del Chelsea per costare un macelle Infatti l'ho pagato sui 300.000 crediti però dopo andremo a vedere bene Comunque voglio dire che se mi state sentendo è ancora abbastanza strano perché sto ancora male ragazzi È una cosa veramente scandalosa però speriamo di stare meglio nei prossimi giorni dato che tanto ci sarà a scuola Quindi si starà sicuramente meglio perché si deve stare male nel weekend ovviamente E poi se volete comprare i crediti mi raccomando andate a prendere la FIFA con il testo, il link lo trovate in descrizione È un sito affidabilerrimo e velocissimo cioè voi pagate, i crediti vi arrivano solitamente dopo pochi minuti Comunque ragazzi partiamo Allora in porto utilizzo sempre la mia solita difesa perché? Perché ragazzi a me piace un macello Voi se volete potete cambiarla basta che mettiate tre giocatori che giochino o tutti Che abbiano doppia intesa quindi possono giocare o nella stessa squadra oppure nella stessa liga Nella stessa serie in questo caso e aver la stessa nazionalità Io infatti utilizzo Neuer, Boateng e Dante Alighieri No perché mi trovo veramente bene con questa difesa e secondo me è una tra le più forti del gioco Anche se devo dire che Noio ultimamente mi sta facendo abbastanza defecare E ciò non va bene ragazzi però vabbè Ma ecco avrà una crisi momentanea Ecco speriamo che sia momentanea Comunque allora innanzitutto non so se avete già visto però utilizzo un 4x3 Ed è un Iber da bene sì ragazzi Infatti utilizzerò come ho già detto Salah, Tarat E poi sarà un attacco veramente speciale costituito dal Baggatone e Johnson Comunque ora andiamo a vedere Allora come terzino sinistro ragazzi utilizzo Costanto Costanto non l'avevo mai utilizzato prima Devo dire che mi è abbastanza piaciuto per un terzino sinistro avere 80 le velocità Non mi sembra affatto male Poi 77 di difesa, 78 di drilling, 71 di testa, 79 di passaggio e 67 di tiro Ragazzi per me è un terzino abbastanza completo con Stant Ve lo consiglio Ebbene sì ragazzi io ve lo consiglio assai Passiamo al centrocampo Allora come CC ho deciso di utilizzare Montolivo Voi potete utilizzare chi volete Basta che appunto sia un centrocampista del Milan Infatti potete utilizzare Honda e Sien Io ho utilizzato Montolivo perché pensavo fosse meglio Ma se devo essere sincero tra Montolivo e Honda preferisco Honda Solamente appunto stavo vendendo i giocatori Non avevo dei crediti necessari Ho deciso di utilizzare Montolivo Anche perché Honda io vi consiglio di comprarlo tra una settimanella Che tra una settimanella inizia a costare su 2000 crediti Ora invece ne costa ancora 10.000 Mi sembrava un po' troppo spendere tutti quei crediti Per solo un giocatore Poi passiamo subito all'ala Passaggio all'ala perché questa qua è la parte La parte della serie A della squadra Come ha l'utilizzo ragazzi Tarab Tarab che mi avete richiesto in un sacco E vabbè ragazzi Voi lo sapete che a me questo giocatore piaceva Poi sono abbastanza contento Perché sulla pagina Facebook Tipo ancora prima che lui venisse ho detto Oh ma io sono strafissimi al Milan E secondo me ha fatto veramente un buon acquisto ieri Si è visto anche soprattutto nella partita di ieri contro il Napoli Che ahimè abbiamo perso tra uno Però Tarab si è Cioè si è distinto Si è distinto dal Milan Ovviamente in modo positivo Ed è veramente forte Comunque se avete notato Gli hanno abbastato di una stella al piede debole Infatti su Viva 3 c'aveva 5 stelle di massabilità E 5 stelle di piede debole E invece sul 14 ha solo Ah 5 stelle di massabilità E solamente Eh vabbè però Ha una stella di piede debole in meno Ragazzi poi vabbè L'ho pagato 5.000 Se aspettate due giorni Il prezzo andrà 3.000 Però io ve lo consiglio L'unica Ve lo consiglio alla grande L'unica pecca Che può presentare Quella della velocità Infatti non è un Un giocatore così veloce E se Cioè io l'ho utilizzato in un 4x3 Perché stavo utilizzando il 4x3 E sto cercando di utilizzare al massimo Questo modulo Infatti sono già passato Dal 4x1,2,1,2 Al 4x3 Però lui Ce lo vedo molto da esterno Infatti la sua carta normale È quella da esterno Io l'ho adattato io ad Ala Però devo dire che è forte Poi come ho già detto A me lui piace un sacco Passiamo subito alla parte destra Della squadra La parte destra della squadra Ovviamente della Premier League Infatti Come terzino destro Troviamo Ivanovic Poi vabbè Anche terzini destri Potete vagliarli Basta Anzi no Facciamo così Possiamo trovare o Ivanovic Oppure Raffal Preferisco Raffal 3-2 Perché Ivanovic è a 6 forte Però è abbastanza lento Invece Raffal Che ho pagato solamente 1500 crediti Ha 81 di velocità 78 di ribbing 76 di difesa E 66 colpi di testa Se poi gli mettete La chemistry style Ancora Le sue statistiche saliranno ancora E infatti Per me è meglio di Ivanovic Poi vabbè La scelta è vostra Passiamo invece al centro campo Al centro campo Allora utilizzo come CC Ramirez Però volendo Potete utilizzare anche Mata Se appunto volete utilizzare Mata Dovrete cambiare per forza Il terzino Che da Raffal Appunto dovrete mettere Ivanovic Allora vabbè Ramirez l'avete visto più volte 54 partite 5 gole 11 assist Mi piace Mi piace veramente Ha dei workets Che secondo me sono ottimi Per un centrocampista centrale Che sono alto e alto Poi ha 88 di difesa 68 di tiro 79 di passaggio 81 di dribb 76 di difesa 72 colpi di testa Io essendo appunto Appunto Prima lo utilizzavo in un 3-5-2 Quindi ho deciso di utilizzare La camista Il sentinella Quello che gli aumenta di 3 La difesa Di 2 colpo E di 3 colpo di testa Passiamo invece all'ala Allora ragazzi L'ala Io utilizzo il magico Sala ragazzi Scusate Allora Sala del Chelsea Che ho pagato 286.000 crediti Ragazzi Li vale? Ragazzi Non li vale affatto Non spendete così tanti crediti Per un giocatore simile Infatti Ho voluto fare questa squadra Per farmi Magari un'ibrida Tra giocatori nuovi O meglio i transfer E quelli Old school diciamo E ho deciso di utilizzare Sala Anche perché volevo provarla Ragazzi devo essere sincero È forte Però 286.000 crediti Non li vale Assolutissimamente Quindi Il più è che Non so neanche se aspettando Il prezzo scenderà Beh ovviamente Di un po' scenderà Ma se non ci avete fatto caso È l'unico esterno destro Del Chelsea Infatti il Chelsea Ha la parte sinistra Della squadra Che è una bomba Cole William Hazard Invece nella parte destra Non ha nessuno Quindi per me È anche questo Un fattore che determina Il suo prezzo così alto Quindi è una cosa Abbastanza poco tattica Comunque forse Adesso appena mi sentirò meglio Lo andrò a pink palare Allora ecco Anche colgo l'occasione Per dirvi questa piccola cosa Nei prossimi due giorni Avrò due giorni Veramente difficili A scuola Intensi Quindi non so nemmeno Se riuscirò a caricare un video Magari vi carico Un episodio del pack of the day Sul primo canale Ecco vi dico questo Così che magari Voi non vi aspettate Di trovarvi il pink palare Che poi non arriva Ecco Passiamo invece Agli ultimi due giocatori Questa squadra Allora ragazzi Gli ultimi due giocatori Possono essere Di vostra scelta Basta che abbiano Lo strong link Infatti devono avere Tripla intesa Questo perché Perché in questo modo Abbiano entrambi 9 di intesa E non 7 Allora Io ho deciso di utilizzare Dempsey Andiamo a cercarlo Aspettate che devo cercare M-L-S Major League Soccer Dove sei Ecco qua Allora abbiamo Dempsey Che ragazzi Mi ha stupito Alla grande Due partite 0 gol Però veramente forti Non me lo sarei mai aspettato Così forte Quindi ve lo posso anche Considerare Pensate che addirittura Io non gli ho ancora messo La chemistry style Quindi immaginate Cosa diventa Quella chemistry style E invece come attaccante Abbiamo uno dei bug In persona Di questo gioco Che in pochi conoscono Infatti Come ATT Utilizzo Johnson Ragazzi Johnson Se vi ricordate Il video che avevo fatto Del Del wager match Di Cannavaro Mi aveva aperto La difesa Proprio in due In due partite Mi ha fatto 0 gol Stranamente E un Astis Però ragazzi È un tank È un carro armato Va Va dove vuole È pure veloce 85 di velocità 49 di difesa 82 di colpo di testa Ragazzi 4 stelle di piedevole 4 stelle di impossibilità Ragazzi Io vi consiglio di provarlo Poi vabbè Noi sappiamo che degli argenti Non bisogna guardare le statistiche su carta Perché se gli argenti Sono buggati Non ci può fare niente nessuno Non è che le statistiche lo dicono Quindi ragazzi Ve lo consiglio Poi adesso magari vi faccio vedere Proprio due gol Perché Al match Ho fatto solamente due partite La prima l'ho perso 1 a 0 Anche se ho stradominato Infatti Schizzavo male ragazzi Eh no Il crimine mi stava salendo Un macello Ho fatto tipo il triplo dei tiri Ho perso 1 a 0 E invece la seconda partita Ho vinto 2 a 0 Ma Il mio avversale ha quittato Quindi per questo Non ho tante clip Mi scuso Però ragazzi Poi colgo la occasione Per ringraziarvi Di tutti i mi piaci Di tutti i commenti Di tutte le iscrizioni Che stanno arrivando Il mio canale Sono veramente contento Vi ricordo di passare Dalla pagina facebook E dal mio secondo canale E credo stasera Di dirvi in cosa Consisterà il video Dei 30.000 Ovviamente Mi scuso per non averlo fatto Ancora uscire Ma come ho già detto C'entra sia la salute Ma poi anche Altri fattori Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Fatemi sapere Se qualcuno Qualcuno di voi Farà O meglio Deciderà di fare Questa squadra Fatemi sapere Come vi è sembrata E quindi Detto questo Io vi saluto E vi dico potente A pala Ci sento Al prossimo video Bolla